nordica doberman gsr rb è uno shipper chiama le curve da gigante vuole dipingere linee perfette anche in assenza di un tracciato con un raggio di 19,5 metri e 69 millimetri al centro nella lunghezza di 180 centimetri al doberman gsr non manca nulla sidewall in fenolo una costruzione robusta e composta da diversi tipi di legno due strati di titanal insert in carbonio in punta in coda la piastra fdt recoil power pro gli sci hanno un profilo full camber nordica gsr 175 con piastra fdt è uno sci molto divertente a mio avviso su condizioni di neve invernale quella bella compatta invernale soffre un pizzico di più sul ghiaccio per questo appunto nordica ha creato anche il lo stesso sci con la piastra piston è uno sci che va benissimo sia per fare il corto raggio che per fare curve ad arco medio soffre un pizzico di più invece quando si aumenta leggermente la velocità e si fanno curve ampie uno sci che ho trovato bello facile molto leggero ai piedi probabilmente anche dato dalla piastra in questo momento provata quindi con la piastra scorrevole probabilmente con la piastra piston risulterà un pochino più pesante anche un pochino più stabile nonostante questo l'ho trovato comunque stabile in conduzione anche su neve dura però al tempo stesso maneggevole quindi sicuramente con la piastra scorrevole può essere uno sci da usare tutto il giorno che consiglio ad uno sciatore l6 l7 che ama sfruttare la conduzione divertirsi uno sci che ho trovato subito molto stabile ti dà una grande sicurezza sia nelle curve veloci che nell'arco medio un pelo di difficoltà in ingresso curva con la spatola farla deformare ma subito dopo lo sci conduce bene e accelera quindi ottima conduzione